Neymar ha superato Pelé ed è ufficialmente il miglior marcatore del Brasile, ma voi conoscete i capocannonieri di tutte le top nazionali? Grazie alla doppietta contro la Bolivia, Neymar ha staccato di due reti Pelé, salendo a quota 79 gol in 125 presenze. Orei si è fermato a 77 in 92 partite. Ma torniamo in Europa, in Portogallo, dove il miglior marcatore è ovviamente Cristiano Ronaldo. CR7 ha segnato 123 gol con la sua nazionale. Andiamo in Francia, in cima a tutti l'attaccante del Milan, Olivier Giroud, con 54 reti. 5 gol in più per David Viglia, che grazie alle 59 marcature con la maglia rossa è il miglior marcatore della Spagna. 71 invece gol segnati da Miroslav Klose, 3 in più di Gerhard Müller, che è il capocannoniere della Germania. In Inghilterra, Henry Kane ha da poco superato Runei, salendo a quota 58 reti. E l'Italia? Numeri distanti da quelli delle altre nazionali. Il miglior marcatore azzurro è infatti Gigi Riva, con 35 gol sotto di lui Meazza e Piola, rispettivamente con 33 e 30. Poi Baggio Del Piero. Di nuovo in Sud America, per l'Argentina, il capocannoniere è ovviamente Lionel Messi, con 104 gol, il doppio delle reti segnate da Battistuta, secondo in classifica. Mentre per l'Uruguay, la storia recente rappresentata da Suarez e Cavani, rispettivamente primo e secondo, a quota 68 e 58 gol. Secondo voi, chi riuscirà a battere il record italiano? Grazie a tutti.